buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza qui e durante questo webinar oppure formazione didattica aperta esploreremo i metodi che ci possono aiutare a migliorare la partecipazione degli studenti in presenza in particolare attraverso l'utilizzo di una piattaforma come w club qui con noi abbiamo il piacere di avere i nostri speakers paolo marenghi e michele masini paolo marenghi process coordination manager al metid al politecnico di milano e michele masini docente e membro del team di innovazione didattica di ateneo tida dell'università di genova e giusto per giusto una precisazione non nel caso in cui avete delle domande non esitate a porle nella chat poi appunto le tratteremo una ad una e vi ringrazio e procedo all'inizio della formazione appunto come vi ho detto l'obiettivo è quello di utilizzare una piattaforma come w club per migliorare la partecipazione degli studenti non soltanto la partecipazione ma anche la qualità di apprendimento degli studenti in presenza vorrei chiedervi di connettervi all'evento per partecipare tramite qr code oppure tramite il link che il collega martino condividerà nella chat aspetto qualche minuto e appunto vi lascio il tempo di connettervi aspetto ancora un po e mentre appunto aspetto che vi connettiate volevo giusto a dirvi che questa prima parte questi primi venti venticinque minuti sono dedicati a l'introduzione sulla piattaforma w club e appunto alla all'esposizione delle funzionalità principali della piattaforma in modo da mostrarvi come funziona la piattaforma e darvi dei consigli per migliorare la partecipazione dei vostri studenti a lezione in presenza e vedo che comunque è stato pubblicato il link nella chat quindi procedo e vi lascio il tempo di connettervi anche tramite il link in seguito giusto per farvi una domanda rompighiaccio tra virgolette vorrei chiedervi in una parola di descrivere questo ritorno in presenza quindi vorrei chiedervi le vostre percezioni e le vostre opinioni a riguardo come vedete questa è una domanda che noi chiamiamo nuvola di parole quindi permette di mostrare tutte le risposte ottenute in modo visuale grafico e ovviamente la risposta più ricorrente appare più in grande rispetto alle altre vedo che siete comunque in generale positivi e contenti di questo ritorno in presenza però le le difficoltà non mancano e penso che comunque sia una cosa positiva soprattutto dopo praticamente un anno e mezzo di didattica a distanza e appunto posso visualizzare le vostre domande anche tramite la griglia dei risultati e vi lascio ancora tempo per rispondere se qualcuno stava scrivendo vi ringrazio per queste risposte e vorrei brevemente contestualizzarvi il motivo per cui w club è uno strumento che può aiutarvi a migliorare le l'apprendimento e l'attenzione degli studenti ad esempio club si basa su uno studio che è stato realizzato da questi due ricercatori americani che hanno cercato di valutare le tecniche di studio degli studenti cercando di individuare l'efficacia più o meno alta corrispondente ad ogni tecnica di studio vedete che abbiamo delle tecniche di studio passive e attive passive ad esempio sono la sottolineatura o la rilettura degli appunti e le tecniche attive sono soltanto due cioè il practice testing cioè il fatto di fare dei test come è possibile fare tramite la piattaforma w club e la pratica distribuita che consiste nel studiare per esempio soltanto una mezz'ora al giorno ma in un periodo di tempo molto più lungo quindi ad esempio per tre mesi mezz'ora al giorno invece di ridursi le due settimane prima dell'esame e studiare tutto il giorno riguardo a questo vorrei chiedervi di di dirmi secondo voi quali sono le tecniche di studio che sono utilizzate maggiormente dagli studenti siete teoricamente ancora connessi all'evento quindi vi lascio rispondere ok quindi secondo voi gli studenti leggono gli appunti fanno un riassunto del contenuto evidenziano il testo secondo pochi di voi gli studenti fanno dei test quindi in generale vedo che la percezione riguarda principalmente delle tecniche di studio considerate come passive lascio ancora un po di tempo per per gli altri che stavano rispondendo vi ringrazio delle vostre risposte e adesso appunto vorrei mostrarvi il risultato di questa ricerca questa ricerca e la i due ricercatori appunto hanno individuato che le tecniche di studio meno efficace appunto sono quelle passive come ad esempio come appunto avete detto voi la sottolineatura e la rilettura degli appunti quindi appunto l'efficacia è classificata come low quindi bassa invece le tecniche di studio migliori sono quelle e quindi più efficaci sono quelle della pratica del test e la pratica distribuita quindi delle tecniche di studio attive appunto per l'obiettivo di wclap e quindi l'obiettivo del fare delle domande durante la lezione e intrattenere gli studenti in questo modo è permettere di attivare il cervello quindi permettendo appunto agli studenti di restare sempre attivi rispondendo alle domande e scaglionare i periodi di studio quindi ad esempio anche un modo di scaglionare il periodo di studio potrebbe anche corrispondere allo scaglionare i periodi di attenzione nel senso che facendo delle domande lo studente si sente si sente chiamato in causa diciamo e è portato a mantenere l'attenzione per più per più tempo e poi le growth mindset quindi il mindset della crescita che è che può essere appunto ottenuto grazie alla valutazione delle risposte corrette o sbagliate quindi vediamo che la metodologia che consigliamo quindi la metodologia che consigliamo per mantenere l'attenzione dei vostri studenti in classe è quella di fare una domanda all'inizio della lezione controllando il livello di conoscenza dello studente poi di rivedere spesso i concetti importanti facendo una domanda regolarmente nel corso della lezione rivedere il concetto in questo caso è effettuato in modo attivo tramite la domanda e la risposta da parte degli studenti invece che la semplice ripetizione del concetto importante che era appena stato spiegato poi appunto fare delle domande spesso per attivare il cervello degli studenti quindi mantenendo l'attenzione e far sì che non si annoino e poi infine motivare gli studenti mostrando che stanno facendo progressi quindi ovviamente uno studente che si renderà conto che non sta rispondendo in maniera corretta alle domande sarà di conseguenza più motivato a prestare più attenzione in seguito e guardo un attimo se ci sono delle domande in chat vorrei passare ora alla parte più tecnica diciamo dell'utilizzo dell'utilizzo appunto della piattaforma come potete vedere la funzionalità una funzionalità importante di wclap che è una piattaforma accessibile da browser quindi non necessita di scaricare nessun tipo di applicazione è quella di inserire una presentazione vediamo che l'inserimento di una presentazione è possibile tramite questa opzione scusate sbagliato aggiungi una presentazione e come vedete più formati sono supportati abbiamo pdf powerpoint oppure keynote e anche google slides nel momento in cui clicco su aggiungi una presentazione la presentazione comparirà qui a questo punto tutta la mia presentazione già presente all'interno della piattaforma wclap e quello che dovrò fare ora è soltanto creare delle domande fondamentalmente qui vedete che abbiamo la lista di tutte le domande che sono 16 a disposizione e basterà cliccare sulla domanda che voglio creare appunto per procedere alla creazione del contenuto ad esempio posso scegliere la domanda scelta multipla posso scrivo il testo della mia domanda appunto scrivo le possibili risposte e seleziono la risposta giusta in questo caso potrebbe essere la b e clicco su salva le domande appunto compariranno in ordine cronologico in base alla creazione qui vedete che comunque ne ho create tante però appunto come vedete l'ultima creata compare sempre in fondo alla fila poi potete anche cambiare l'ordine però appunto questa è la domanda che abbiamo appena creato a questo punto giusto per farvi vedere come inserire la domanda clicco su inserisci delle domande e ritrovo appunto qui la domanda che ho appena creato e la sposto ad esempio tra la slide 3 e 4 a mio piacimento e come vedete compare qui appunto proprio è semplicissimo basta effettuare un drag and drop e clicco su salva poi vediamo che ci sono tanti altri tipi di domande come ad esempio sondaggio il sondaggio è la molto simile alla risposta scelta multipla soltanto che non appunto non vengono previste risposte corrette possiamo inserire più appunto possibilità di risposte quindi fondamentalmente un numero abbastanza elevato e selezionare anche il cronometro se selezionato il cronometro prevede di inserire un timer all'interno della domanda possono essere ad esempio due minuti e quindi questo è il tempo che viene dato allo studente per rispondere a quella domanda alla fine del timer lo studente non potrà più rispondere poi abbiamo la domanda trova sull'immagine e se volete vi lascio anche rispondere alla domanda appunto la domanda trova sull'immagine qui vedete un esempio molto molto semplice giusto per farvi capire permette appunto di selezionare una parte una determinata parte presente nell'immagine e appunto per verificare la conoscenza dello studente in questo caso l'abbiamo applicata all'ambito medico ma può essere applicato ad esempio nell'ambito economico per appunto certi grafici di ingegneria quindi insomma può essere adattata in base alle vostre esigenze e come vedete il docente nel momento in cui crea la domanda selezionerà l'area corrispondente l'area corretta e gli studenti appunto dovranno selezionarla per poi visualizzare la risposta corretta che è appunto vi ricordo che le risposte possono essere visualizzate in tempo reale tramite questo tasto qui ok un altro esempio di questo tipo di utilizzo di questo tipo di domanda è in ambito economico e in questo caso viene richiesto allo studente di selezionare quale appunto grafico è corretto quindi se volete vi lascio il tempo di rispondere come potete vedere può essere questo tipo di domanda può essere adattata a tantissimi ambiti e vi mostro appunto la visualizzazione ok quindi lo studente seleziona la zona che preferisce appunto la zona che ritiene più corretta e poi il docente mostra la zona corretta appunto in questo modo quindi come potete vedere gli ambiti appunto di utilizzo sono veramente molteplici e per quanto riguarda altri tipi di domande abbiamo la domanda a scala in cui può essere attribuito un punteggio da 1 a 5 a determinati elementi poi abbiamo la domanda aperta etichettare una figura quindi appunto in un'immagine ad esempio una cartina geografica lo studente riempirà le etichette che sono state inserite dal docente e poi abbiamo ad esempio oltre che la nuvola di parole che abbiamo già visto la definizione delle priorità e provo a farvi rispondere anche a questa domanda la definizione delle priorità appunto prevede la distribuzione di 100 punti agli elementi dati dall'insegnante quindi in questo caso ordinate le seguenti sfide secondo la loro importanza nel caso in cui io pensassi che il cambiamento climatico è appunto la sfida più importante del momento posso decidere di attribuire ad esempio 60 punti al cambiamento climatico e attribuire gli altri 40 alle altre tre opzioni quindi appunto vedete che i punti che vengono attribuiti poi vengono ordinati in ordine cronologico e questo è un altro esempio di domanda che permette di raccogliere l'opinione dello studente e le percezioni riguardo ad un determinato argomento ancora una volta può essere utilizzato questo tipo di domanda può essere utilizzato in base appunto alle vostre esigenze e può essere adattata tramite la vostra creatività quindi appunto posso decidere di visualizzare appunto i risultati in questo modo oppure tramite le scelte selezionate vi ringrazio per la risposta poi appunto abbiamo trovo un numero e giusto per precisare questa cosa è una domanda nel quale viene richiesta una semplice risposta che è costituita da un numero e basta semplicemente quindi ad esempio la risoluzione di un'equazione e ad esempio un esempio banale è dopo quanti mesi il cliente sarà redditizia per l'azienda quindi in questo caso lo studente risponderà proprio direttamente tramite un numero e giusto per ricordarvi per ambiti appunto matematici eccetera l'ATEX è supportato quindi appunto potete utilizzarlo all'interno delle domande e gli studenti possono utilizzarlo a loro volta nelle risposte quindi appunto vedete le risposte vengono visualizzate in questo modo quindi il docente potrà mostrare tutti i risultati ottenuti per poi mostrare infine la risposta corretta perfetto ora vorrei passare appunto a un altro tipo di questionario che può essere effettuato in asincrono vediamo appunto che tutta questa parte la parte voti riguarda le vostre presentazioni in aula quindi riguarda appunto le domande che farete agli studenti e alle quali riceverete una risposta immediata e diretta proprio nello stesso momento invece al ritmo del partecipante permette di creare un questionario appunto come potete vedere la visualizzazione è proprio identica a quella di creazione domande in modalità sincrona e permette appunto di creare delle domande alle quali lo studente potrà rispondere in un secondo momento nel momento in cui il link dell'evento è condiviso allo studente lo studente potrà rispondere a questo questionario ad esempio può essere vista come una forma di attività da svolgere in classe magari in un momento di pausa nel quale appunto si decide di fare delle domande agli studenti e poi rivedere tutti i risultati oppure può essere anche visto come una modalità di compito per casa oppure di appunto richiesta di percezione agli studenti riguardo magari la struttura di un corso eccetera nel momento in cui lo studente crea il questionario sarà necessario pubblicarlo scusate in questo caso ho delle impostazioni delle impostazioni che non mi permettono di farlo però appunto nel momento in cui il questionario viene al ritmo del partecipante viene pubblicato e il link viene condiviso lo studente potrà rispondere e nel caso in cui il docente volesse fare sei domande lo studente si ritroverà tutte le sei domande una dopo l'altra è possibile anche aggiungere un file quindi ad esempio una presentazione oppure una lettura da fare e poi appunto legato questo file sarà automaticamente legato al questionario dopodiché lo studente potrà avere accesso alla griglia e al report quindi in questo caso potrà valutare i risultati e vedere chi ha risposto correttamente nel caso in cui si volesse lasciare l'anonimato l'autenticazione può essere lasciata in questo modo quindi non spuntata nel caso in cui si richiedesse il nominativo dello studente basterà cliccare su autenticazione un'altra cosa interessante da vedere è la griglia dei risultati quindi in questo caso il docente potrà avere accesso a tutte le risposte che sono state date dagli studenti in questo caso ho richiesto l'anonimato quindi appunto i nomi degli studenti o comunque in questo caso di voi partecipanti non compaiono però appunto sarà possibile vedere tutte le risposte corrette appunto o sbagliate date dallo studente in questo caso non si vede molto perché vi ho fatto poche domande e non erano spesso previste delle risposte corrette però appunto poi è possibile esportare i risultati in formato Excel in modo da avere un resoconto sempre appunto costante delle performance degli studenti relative ad un determinato ad un determinato corso ad una determinata lezione queste appunto erano le funzionalità principali della piattaforma Uclap quindi proprio le basi per poterla utilizzare e se avete delle domande non esitate a a farle in chat e a questo punto lascerei la parola al dottor Marenghi per l'esposizione della sua esperienza con Uclap al Politecnico di Milano eccomi si sente si sente bene? sì perfetto allora grazie io in questi in questi pochi minuti vi voglio condividere rapidamente cosa abbiamo fatto noi al Politecnico di Milano in particolare con Uclap allora intanto noi come come metri come Politecnico di Milano avevamo già avviato tutta una serie di attività legate all'innovazione didattica e già avevamo iniziato a sperimentare una serie di di strumenti come quelli di di questa famiglia di Student Response System e ora adesso vi condivido vi condivido dovreste riuscire a vedere se mi confermi Diletta si vede la presentazione? non ancora vediamo se è partita ci ho fatto condividi schermo vediamo se sta andando non gli piace? non funziona? vediamo se no allora condividi ah ok forse c'era un'impostazione da ok perfetto adesso si vede ok adesso si vede perfetto mancavano mancavano dei permessi ok no come Politecnico di Milano noi abbiamo utilizzato VCLAP già in forma sperimentale dalla fine del 2020 e quindi per tutto il primo semestre del 2021 in forma sperimentale intendo dire che abbiamo avviato una prima sperimentazione volontaria con i docenti che avevano voglia con noi di provare questo strumento in alternativa ad altri che utilizzavamo con l'idea poi di consolidarlo cosa che è avvenuta a settembre di quest'anno per una strategia complessiva nostra che prevedeva comunque il rinnovo di tutta l'infrastruttura della piattaforma il Learning Management System di Ateneo e di conseguenza l'integrazione di VCLAP all'interno dell'LMS come strumento da fornire a tutta la platea di docenti e studenti com'è che lo abbiamo utilizzato? intanto lo abbiamo utilizzato per le attività sincrone ora io non non vi spiego quali strumenti ve li mostro ma gli strumenti in sé diciamo che poi si vede che tipologia di esercizi si possono attivare voglio invece spiegarvi quali sono le attività che abbiamo svolto e come le abbiamo utilizzati allora per esempio in aula abbiamo promosso queste quattro tipologie di attività il primo l'abbiamo chiamato il quiz di richiamo delle conoscenze pregresse in modo tale che il docente possa lungo il percorso didattico utilizzare questo strumento per verificare gli studenti a che punto erano rispetto ai concetti che erano stati espressi in precedenza allo stesso modo l'abbiamo proposto come sistema di anticipazione di contenuti quindi ad esempio una lezione può partire per invogliare lo studente a capire di cosa si parlerà magari ponendogli delle domande sull'argomento considerato che la platea degli studenti potrebbe già qualcuno sapere qualcosa qualcuno non sapere nulla qualcuno invece pensare di conoscere qualcosa rispetto all'argomento in realtà sta sbagliando quindi questo tipo di attività serve in generale per attivare l'aula ma appunto per dare un inizio un pochino più brillante alla lezione di interesse per l'argomento che si sta per svolgere chiaramente come già stato detto individuare momenti durante la lezione per risvegliare l'attenzione il consiglio che diamo a noi durante la progettazione di queste lezioni è proprio di trovare dei momenti di progettare dei momenti nei quali svolgere queste attività per risvegliare l'attenzione e un altro filone di attività è quello che riguarda tutte le attività in cui gli studenti possono lavorare sia a gruppi sia a coppie sia singoli per come dire migliorare quello che è stimolare la riflessione e in generale il brainstorming tra di loro questi sono degli esempi ovviamente li avete già visti anche prima il fatto che l'interfaccia sia così facilmente utilizzabile ovviamente è un vantaggio non da poco sia da parte del docente che da parte dello studente e permette appunto di poter rapidamente passare da una modalità di visualizzazione ad un'altra in maniera molto molto semplice ed efficace l'altro filone su cui abbiamo cercato di lavorare è quello delle attività asincrone quindi usare lo stesso strumento per uno scopo diverso in questo caso alcuni esempi quiz di ripasso di quanto fatti in aula come già stato detto in precedenza questo è l'esempio più più semplice o quello che ci è stato richiesto di più in particolare questo dagli studenti perché per realtà le esigenze di studenti e docenti sono diverse le richieste sono diverse per quanto riguarda la possibilità di ripassare quanto fatto in aula è una richiesta fortissima da parte degli studenti un'altra modalità invece che abbiamo promosso è quella di creare dei contenuti per permettere agli studenti di prepararsi prima della lezione all'interno delle nostre attività di formazione docenti spingiamo molto alla valorizzazione del momento della lezione e di tutto ciò che si può attivare nel prima e nel dopo per sfruttare il meglio possibile il momento della lezione apro e chiudo parentesi quando intendiamo lezione per noi è una lezione in generale che sia in presenza che sia online che sia mista questo è un tema che vale trasversalmente altra possibilità è quella di creare contenuti nuovi da dare agli studenti per consolidare quanto fatto in aula cosa abbiamo fatto per poter lanciare questo tipo di attività intanto una fortissima attivazione da parte nostra per quanto riguarda la formazione docenti abbiamo fatto una serie di seminari interni generali che riguardavano il funzionamento di VCLAP in generale e in particolare poi un altro che riguarda l'integrazione di VCLAP con appunto l'MS di Ateneo aspetto chiave fondamentale perché da una parte significa passare dall'avere uno strumento sperimentale che qualcuno può utilizzare invece è uno strumento consolidato che sta nella lista degli strumenti software che l'Ateneo dà in dotazione e l'integrazione con la piattaforma di supporto a didattica in presenza presenta tutta una serie di vantaggi legati all'autenticazione legati al tracciamento dei dati e tutta una serie di altri aspetti cosa che noi lo abbiamo proposto anche in termini di strumento a sé stante VCLAP non necessariamente soprattutto nel primo semestre non necessariamente legato a quanto avviene nella piattaforma di supporto a didattica in presenza chiaramente questa integrazione consolida ancora di più consolida ancora di più l'utilizzo e dà una possibilità in più in base al contesto per poter usare lo strumento nel migliore dei modi abbiamo anche avviato tutta una serie di riflessioni e di lavori a piccoli gruppi perché un conto è fare la formazione ai docenti in generale e un conto poi è lavorare sulle singole richieste dei singoli docenti dalle quali poi si scopre che esistono tutta una serie di esigenze specifiche nel senso che si scopre che poi le esigenze specifiche si fondono principalmente poi con una richiesta di coprogettazione a puntista metodologico per cui lo strumento una volta conosciuto visto e una volta che si è capito che cosa può offrire poi fa smuovere tutta una serie di altre considerazioni su come deve essere progettata la mia lezione per capire dove inserire questi momenti di attivazione come qual è lo scopo dove posso inserirli prima dove posso inserirli durante e dopo cosa che di per sé fa nascere una collaborazione ancora più ampia sul tema complessivo dell'innovazione didattica e del modo di fare lezioni in particolare da un punto di vista puramente diciamo più tecnico molte richieste sono arrivate per quanto riguarda l'integrazione con powerpoint google slide capire come rendere l'uso ancora più più flessibile in generale abbiamo avuto la possibilità di formare 400 docenti che direi che come prima fase è un è un buon numero e come prossimi passi l'obiettivo è quello di consolidare questa base di espanderla in modo tale considerato che da ora ormai da un mese il sistema è consolidato e offerto a tutti di espandere e usare questo anno come un anno nel quale estendere complessivamente a tutti la possibilità di lavorare con questo strumento per migliorare la propria didattica direi che a questo punto posso verificare se ci sono delle domande interrompo la condivisione prima che diventiamo matte a vedere gli schermi dunque vedo non so se la domanda è per me come viene gestito per me dei dati sul piano legislativo immagino di no però io posso anticipare che da quel punto di vista l'IT di Ateneo ha fatto tutte le verifiche del caso essendo un software basato in Europa GDPR compliant e tutto il resto chi di dovere chi si occupa di questa tematica della privacy ha dato l'ok per quanto riguarda la possibilità di utilizzarlo però direi che di letta sicuramente può rispondere meglio di me sì grazie infatti è così principalmente il fatto di essere GDPR compliant ci rende appunto consoni tra virgolette al problema appunto di dati privacy a livello legislativo quindi però da quel punto di vista lì nel caso in cui avete bisogno di un consulto di più informazioni le nostre email sono disponibili quindi possiamo approfondire la cosa anche insomma in un altro momento con più dettagli e informazioni e Paolo penso che possiamo dare la parola a Michele Masini assolutamente grazie mille per l'intervento e per la presentazione e quindi lascio il dottor Masini condividere le sue slide ok mi sentite solo per conferma sì sì benissimo allora buongiorno a tutti datemi solo un secondo ok mi confermate che si vedono le slide sì benissimo perfetto allora buongiorno a tutti mi chiamo Michele Masini e sono sia un membro del team di innovazione didattica di Ateneo sia un docente a contratto dell'Università di Genova quello che vi vorrei presentare oggi è un po' la mia esperienza sull'utilizzo di Vuclap e un po' quella che è stata l'esperienza all'interno dell'Università di Genova nell'utilizzo di questo strumento partiamo con la mia esperienza allora questo è uno dei modi che io utilizzavo in passato per stimolare la partecipazione degli studenti in aula come vedete un modo molto analogico io distribuivo dei cartoncini colorati agli studenti poi proiettavo su schermo le domande e chiedevo agli studenti di alzare il cartoncino colorato e poi mi mettevo lì a contare quanti avevano detto una cosa e quanti avevano detto l'altra funzionava devo dire aveva un po' di problemi nel senso che i tempi erano molto lunghi era difficile contare le risposte per i grandi numeri e soprattutto non era possibile per me avere un feedback immediato di quella che era la distribuzione delle risposte di diversi studenti poi alle domande quindi mi rimanevano anche pochi dati rispetto a come avevano appreso e così che ho iniziato ad utilizzare VCLAP e in particolare l'ho utilizzato in quello che era il corso che insegnavo nell'Accademico 2018-2019 dove ero docente di psicologia per il design nel corso iDesigner e come ho iniziato ad utilizzarlo in diversi momenti della mia lezione sia all'inizio come abbiamo già visto e come già ci ha spiegato il precedente relatore su come ripassare i contenuti e come introdurre gli argomenti sia in altri momenti ma volevo parlare di alcune cose interessanti che sono uscite e che siamo riusciti a fare con l'introduzione agli argomenti ad esempio ho trovato molto utile lo strumento del work cloud ad esempio in cui in una lezione in particolare su cos'era l'intelligenza ho fatto la domanda all'inizio e ho chiesto agli studenti di scrivere chi era per loro il nome di una persona intelligente gli studenti poi hanno scritto chi erano le diverse persone sono uscite diversi nomi di personaggi famosi alcuni aspettati alcuni inaspettati qualcuno ha messo anche il nome del prof ma perché c'è sempre lo studente che cerca di fare il simpatico e poi abbiamo iniziato a discutere a partire da quel work cloud su quella che era l'immagine che loro avevano dell'intelligenza quindi in questo senso l'introduzione all'argomento ci ha permesso di andare oltre non solo quindi ad indagare quello che gli studenti sapevano ma anche a vedere le rappresentazioni che di diversi concetti essi avevano e ho trovato uno dei metodi più utili per utilizzare il work cloud all'inizio della lezione poi evidentemente veniva utilizzato l'ho utilizzato durante la lezione per come ho già detto attivare gli studenti soprattutto su slot di lezione particolarmente lunghi in 4 ore 3-4 ore abbiamo visto che era qualcosa che permetteva di creare dei momenti di pausa che gli studenti si aspettavano diventiva una sorta di punteggiatura della nostra lezione e un momento di verifica degli apprendimenti immediato quindi questa valutazione formativa ci permetteva di andare ad indagare nel dettaglio se lo studente era al passo se aveva capito qualcosa ma non solo permetteva lo studente in effetti di essere al passo e di colmare quegli aspetti o quegli argomenti che magari si era perso nei passaggi precedenti l'ultimo momento in cui utilizzavamo VCLAP era a fine lezione evidentemente per ripassare i contenuti ma anche per valutare la lezione per ripassare i contenuti è diventato un modo diverso dal fare le solite domande perché non so se avete esperienza immagino di sì quando chiedete a uno studente avete capito è uno dei modi migliori per fare star zitta l'aula nel senso che poi a quel punto raramente uno o due approfondiscono e ti dicono qualcosa molto spesso quello che ottieni è abbiamo capito sì e tutto quello che sai è quello che lo studente crede di aver capito ma non sai davvero cosa ha capito lo studente stesso è stato interessante alternare domande dal contenuto più strettamente nozionistico che sono quelle che importanti per diversi motivi ma un po' limitano secondo me l'utilizzo di questo strumento a domande più legate ad esempio all'applicazione dei contenuti quindi sempre possono chiedere agli studenti di andare a verificare se hanno capito i concetti sia andare a vedere se sono in grado di applicarli ad esempio proponendo dei casi studi presentati nel testo della domanda e poi le diverse soluzioni come alternative che prevedono un'applicazione dei concetti appresi l'ultima cosa che ho trovato molto utile fare è chiedere gli studenti un feedback sulla lezione diventava una sorta di feedback a me come docente che gli studenti si aspettavano cosa veniva chiesto loro di andare a dire quanto erano soddisfatti della lezione quanto avevano trovato chiara la spiegazione della lezione la spiegazione degli argomenti e quanto percepivano utile ad esempio l'utilizzo dei diversi metodi e strumenti che in cui la lezione era stata applicata lo stesso VCLAP o lavoro a gruppi e quant'altro e quindi questo permetteva immediatamente di avere di tracciare un po' quelle che erano le percezioni degli studenti e eventualmente andare in futuro a modificare la struttura della lezione dopodiché vi ho parlato della mia esperienza come docente un altro cappello che ho all'interno di Unige è quello di essere parte del team di innovazione didattica di Ateneo che è una struttura che si occupa di fare supporto alla didattica per i docenti di attivare corsi di formazione sull'innovazione didattica di produrre materiale didattico di fare ricerca e come tida abbiamo subito tra i primi strumenti proposti ai docenti proposto V-Clap perché? perché aveva subito un forte impatto per i docenti immediatamente se ne innamoravano appena lo vedevano non lo utilizzavamo nelle nostre formazioni ed era rapido andare a imparare diventava quello che più spesso era il modo più rapido per iniziare a attuare dei piccoli cambiamenti alla propria lezione parliamo in particolare di quei docenti che erano ancora ancorati a una formazione molto trasmissiva quindi gran parte di lezioni frontali e quant'altro quindi l'utilizzo di V-Clap diventava per loro un modo molto rapido per riuscire a cambiare qualcosa tutto questo all'inizio del 2019 poi come voi sapete a febbraio 2020 c'è stato il lockdown ed è cambiato il modo in cui i docenti da noi per la maggior parte hanno iniziato a lavorare molti che prima erano abituati a fare lezioni in presenza e sono trovati a dover gestire un nuovo tipo di didattica la didattica a distanza che è una didattica che ha chiesto un differente approccio che come TIDA abbiamo cercato di supportare e che ha anche richiesto di utilizzare nuovi strumenti e V-Clap è stato uno di questi strumenti perché la sua immediatezza la sua facilità di utilizzo ha subito permesso ai docenti di modificare in parte la loro didattica rendendola un pochino più fruibile anche da distanza quindi inserendo questi momenti di coinvolgimento attivo momenti di valutazione momenti di riflessione e anche ha permesso di fare diverse attività ad esempio con l'utilizzo del brainstorming che in qualche modo aiutavano a coniugare le necessità didattiche con la didattica a distanza in maniera rapida ricordiamo fondamentale quello quindi abbiamo fornito questo supporto immediato abbiamo strutturato tutta una serie di corsi di formazione e di supporto anche ai singoli docenti che ne facevano richiesta e quello che ci siamo accorti quindi che piaceva la facilità di progettazione e di utilizzo anche molto immediato da utilizzare anche docenti con una più scarsa competenza informatica riuscivano facilmente ad utilizzare lo strumento non necessitava di app e questo rispetto ad altri strumenti che alcuni utilizzavano rendeva più facile anche per gli studenti stessi utilizzarlo e poi era integrato con Moodle che è l'LMS che utilizziamo all'Università di Genova si è rivelato uno strumento molto flessibile anche perché le diverse possibilità di attivare le diverse attività che ci sono all'interno di Booklap sono state sfruttate diciamo al massimo dai nostri docenti alcune le abbiamo già viste in precedenza ad esempio il Find an Image come avete visto deve essere utilizzato alla medicina poteva essere utilizzato anche in altre materie a geologia per lo studio dei minerali in architettura per l'individuazione dei punti di interesse sulle cartine diciamo che lavorare con i diversi corsi di studio ci ha permesso anche a noi di imparare diversi tipi di applicazioni dello stesso strumento è stato molto apprezzato il work cloud all'inizio il testo libero per l'indagine delle aspettative come vi ho fatto vedere io prima ma in generale quasi tutti i docenti poi utilizzano uno strumento del genere all'inizio e poi il brainstorming perché ha permesso di riattivare delle discussioni dei gruppi di lavoro anche a distanza e veniva utilizzato anche in maniera piuttosto autonoma dagli studenti quindi si è rivelato uno strumento assolutamente utile di supporto quindi in generale l'utilizzo di work cloud per noi è stato un qualcosa di rapido da imparare di facile da utilizzare per gli studenti ed è molto flessibile nella sua applicazione permettetevi di sottolineare come sia stato fondamentale però fornire un accompagnamento anche ai docenti per andare per andare al di là dell'utilizzo dello strumento solo come sondaggio come domanda risposta multipla domanda risposta aperta e quindi per poterlo anche adattare ai diversi obiettivi e ai diversi scopi degli insegnamenti io direi che ho finito grazie grazie mille per la presentazione stavo vedendo se c'erano delle domande a riguardo e appunto non esitate a fare delle domande su qualsiasi cosa anche sul funzionamento sulle esperienze del Politecnico di Milano e dell'Università di Genova abbiamo comunque ancora un po' di tempo per rispondere appunto 15 minuti e nel frattempo se non ci sono altre domande ho visto che prima mi veniva richiesto di appunto mostrare nuovamente l'inserimento di una domanda dato che vedo questa domanda per quanto riguarda le informazioni sui costi sì potete contattare appunto gli indirizzi mail indicati probabilmente eravate in contatto con me o con Martino o con Maria e i prezzi di solito vengono stabiliti in base al numero degli studenti all'interno appunto iscritti in media alla vostra Università e poi ovviamente tutto quanto può essere trattato in base alle vostre esigenze e appunto procedo con il mostrare di nuovo l'inserimento delle domande all'interno della presentazione ricondivido lo schermo ok teoricamente riuscite a vedere allora come vi ho mostrato prima ad esempio partendo da una domanda sondaggio molto semplice basta cliccare sul tipo di domanda che desiderate e appunto scrivete il testo della domanda A B poi appunto potete inserire delle altre ad esempio C D nel caso ad esempio qui non c'è una risposta corretta perché ho selezionato il sondaggio però appunto voi inserite tutte le opzioni possibili salvate la domanda ok queste sono le due domande che abbiamo creato adesso l'altra l'abbiamo creata prima quindi appunto come vedete se clicco su avvia è proprio la domanda che ho creato adesso a questo punto per inserire la domanda all'interno della mia presentazione clicco su inserisci delle domande vado a riprendere la domanda che ho appena creato e nel caso in cui volessi inserirla tra la diapositiva 6 e la diapositiva 7 faccio semplicemente un drag and drop e come vedete la domanda compare qui e poi clicco su salva giusto per farvi vedere vedrete che compare qui questa è quella che abbiamo inserito prima un attimino e questa è quella che abbiamo inserito adesso quindi come vedete appunto non serve modificare assolutamente niente potete inserire una domanda anche all'ultimo minuto senza appunto dover fare troppe modifiche vedo se e sì abbiamo realizzato una libreria di domande da condividere quindi appunto dei delle domande riguardanti ad esempio l'ambito medico l'ambito economico e queste possono essere condivise ovviamente quindi possiamo nel caso in cui fosse di vostro interesse possiamo possiamo mandarle e e appunto la formazione può essere fatta sia a piccoli gruppi che per tutti i docenti ovviamente nel caso sia della prova gratuita che della licenza a pagamento potete richiedere un supporto in qualsiasi momento noi siamo sempre disponibili stavo cercando di vedere se c'erano delle altre domande per il momento no e appunto per quanto riguarda la numerosità non c'è un numero prestabilito può essere appunto nel team può essere effettuata solo all'interno del team della didattica solo magari per i docenti di una determinata facoltà per tutti i docenti e insomma siamo molto flessibili a riguardo è vero ci sono delle domande nello spazio domande avete fatto bene ricordarmelo ho già sperimentato alcuni degli strumenti che avete presentato penso però che in generale si adattino meglio a scienze dure mentre più difficili per le scienze sociali sociologia servizio sociale e allora in realtà per quanto riguarda le domande che riguardano magari la sociologia psicologia quindi delle domande magari più a livello etico oppure comunque di valutazione determinazione di determinate situazioni sociali io vi consiglio di provare le domande che adesso vi mostro che sono queste lo script concordance test e il judgment SET ad esempio possono essere applicate in ambito medico ma anche in ambito etico psicologico vi faccio l'esempio di questa domanda per esempio in ospedale dall'inizio della crisi coronavirus è obbligatorio portare la mascherina mentre siamo a contatto con i pazienti ma abbiamo il permesso di toglierla quando ci troviamo nelle aree comuni quindi questa appunto è l'introduzione dopodiché ho una seconda parte della domanda quindi un'informazione che noi chiamiamo aggiuntiva che dice dato che nelle aree comuni molte persone non rispettano la distanza di un metro parecchi colleghi decidono di tenere comunque la mascherina nel caso in cui foste ancora connessi all'evento vedrete che la domanda richiede appunto chiede ai partecipanti di determinare quanto questo comportamento è accettabile ovviamente questo è un esempio molto semplice ma può essere questo tipo di domanda può essere adattata veramente in in tantissime situazioni ok ad esempio potete vedere qui è possibile vedere l'opinione degli studenti per poi confrontarla alla l'opinione di quelli che vengono chiamati esperti in realtà nel momento della creazione della domanda è anche il docente che può fungere da esperto quindi può determinare quanto quello che la domanda è quanto appunto la domanda da lui scritta determina un comportamento più o meno accettabile quindi questo appunto per rispondere alle appunto alla domanda fatta per quanto riguarda le delle materie più di stampo sociale psicologico appunto proprio per questo in caso di necessità condividiamo appunto una lista di domande già fatte in modo da potervi ispirare e in modo da darvi degli spunti proprio per le vostre lezioni guardo se ci sono altre domande sì per quanto riguarda fisica matematica e statistica appunto anche su questo argomento abbiamo delle domande che sono già state fatte precise che ci sono state condivise da dei docenti che hanno voluto collaborare con noi e sì ad esempio per statistica ci sono stati dei docenti che hanno risposto degli esperimenti chiedendo quindi appunto hanno chiesto agli studenti di effettuare degli esperimenti quindi raccogliendo tutte le risposte ottenute dagli esperimenti tramite numeri o altro e quindi è sempre possibile adesso durante questa presentazione ho fatto degli esempi abbastanza banali giusto per insomma farvi capire giusto per darvi un'idea però nel caso di appunto richieste più precise o di materie più tra virgolette complesse possiamo sempre fornirvi del materiale spero di aver risposto appunto in maniera sufficiente alle domande che sono già state poste allora per quanto riguarda lingue straniere e lingue seconde sì sempre appunto abbiamo probabilmente il tipo di domanda più utilizzato è la domanda a riempimento quindi poi ovviamente in base alle esigenze del docente in base all'argomento che viene trattato in questo caso però la domanda riempi gli spazi vuoti è probabilmente quella più quella più utilizzata quella che appunto consigliamo di solito per lo studio delle lingue ovviamente qui può essere inserito un testo e tra parentesi quadrate possono essere inserite le parole che lo studente non vedrà e può sempre essere inserito un cronometro e poi ovviamente qualsiasi tipo di domanda in realtà può essere adattata tipo anche ad esempio una domanda di brainstorming una domanda aperta per quanto riguarda le librerie condivise diciamo che è possibile oltre che comunque la libreria tra virgolette di domande che possiamo fornire noi in base alle esperienze dei nostri clienti abbiamo c'è WClub la possibilità di condividere gli eventi tra docenti quindi un docente può decidere di condividere un evento con un altro docente oppure di impostare un inserire un collaboratore all'evento vediamo se riesco a mostrarvi questa cosa ok ad esempio in questo caso il mio collega Martino è il mio collaboratore a questo evento però qui appunto su più impostazioni potete trovare l'opzione di aggiungere un collaboratore quindi nel caso magari di colleghi per quanto riguarda le materie di lingue straniere o altro è sempre possibile appunto collaborare e condividere le domande che sono già state magari create da altri e che hanno appunto che vogliono condividerle in caso in cui vogliono condividerle ovviamente per quanto riguarda Docebo allora no perché Docebo ha una funzionalità diciamo più o meno che si avvicina molto a Google app quindi noi tendiamo più che altro ad integrarci con LMS come ad esempio Moodle Blackboard Canvas e tanti altri quindi fondamentalmente quelli più conosciuti sul mercato diciamo e poi appunto come integrazione abbiamo PowerPoint Zoom Teams quindi fondamentalmente queste sono le integrazioni disponibili poi siamo sempre aperti ad altre collaborazioni quindi il nostro team Dev è sempre alla ricerca di nuove partnership quindi la lista viene aggiornata continuamente stavo vedendo che c'erano altre domande vediamo nella allora per quanto riguarda la comparazione con i nostri competitor diciamo che il vantaggio principale sono le sono le integrazioni in parecchie piazzaforme e l'intuitività dello strumento e la possibilità di effettuare più domande rispetto a quelle che sono fornite da altri competitor insomma quindi ma anche appunto per quanto riguarda la comparazione con altri competitor possiamo condividere delle risorse con voi se può esservi utile se può esservi utile appunto a prendere una decisione oppure a valutare ovviamente la differenza tra noi altri e altri competitor che fanno cose simili se non ci sono più domande vedo che siamo arrivati proprio al termine del tempo disponibile e vi ringrazio molto ringrazio i nostri speaker Paolo Marenghi e Michele Masini grazie mille ancora per gli interventi entrambi molto interessanti e ringrazio a tutti voi per aver partecipato e vi ricordo che la registrazione del video vi sarà inviata quindi appunto potrete rivedere il video condividerlo con altri colleghi che non hanno potuto partecipare e nel caso in cui vogliate più informazioni su Wclap discutere di un'eventuale prova gratuita eccetera tramite gli indirizzi email condivisi dalla mia collega siamo sempre a disposizione per discutere per domande appunto approfondimenti e altro grazie mille e vi auguro un buon pomeriggio e buon pranzo grazie un saluto un saluto a tutti grazie 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 a tutti